ciao raga in questo video vi faccio vedere come cambiare le testine termostatizzabili da calefi è molto semplice basta svitare la manopola che c'è già sulla valvola la mettete via tirate fuori la testina termostatizzabile vedete che una valvola da calefi aprite la scatola e all'interno trovate una ghiera da posizionare sulla valvola questa ghiera a due posizioni cioè bisogna metterla con questo verso verso l'esterno non bisogna metterla al rovescio perché altrimenti non si riesce ad avvitare la testina la posizionate bene nel modo che non esca fuori vedete che c'è anche l'istruzione dove ti fa vedere che bisogna posizionarla con i quadratini verso l'esterno tirate fuori la valvola l'aprite tutta quanta al massimo a livello 5 la posizionate sulla valvola stringete bene la ghiera dietro nel modo che sta lì e non cade ok stringete bene la valvola si chiude e si apre poi dopo qui ci sono i vari numeri con le varie temperature ok potete posizionarla da 1 a 5 o chiuderla del tutto in questo caso noi la lasceremo aperta grazie per la visione ci sentiamo nel prossimo video ciao